di un incivilimento smisurato e di uno snaturamento senza limite ma se non torneremo indietro i nostri discendenti lasceranno questo esempio ai loro posteri se avranno posteri ecco questa è un'affermazione che ci sembra quasi attuante perché ritroviamo l'erco di queste parole di discorsi di ecologisti, di scienziati in realtà Leopardi si trovava in netta contrapposizione con i temporanei che invece vedevano il progresso come apportatore di benefici Leopardi quindi inizia a vedere in maniera scettica appunto questo sviluppo intraendo già i primi pericoli in una delle sue operette morale intitolata La scommessa del promedio in questa operetta emerge l'analisi del poeta sul rapporto tra l'innovazione tecnologica e l'uso dei suoi prodotti da parte dell'uomo l'operetta si apre con un convegno sull'Olimpo, possiamo definire quasi un'expo divina nella quale ogni divinità presenta un'invenzione che sarebbe stata giudicata poi la più innovativa Prometeo rimane deluso dall'esito del concorso infatti riteneva l'umanità la migliore invenzione del mondo e convince Momo, dio del viasimo e della malvicenza ad accettare la scommessa sull'uomo il viaggio dei due comincia dall'America selvaggia e fantasiosa dove alcuni cannibali cuociono e mangiano i loro figli i due poi continuano in India dove assistono invece al sacrificio di una vedova sulla fiera del marito morto e Momo inizia così a prendere un giro prometeo dicendo avresti tu pensato quando rubavi con tuo grandissimo pericolo il fuoco dal cielo per comunicarlo agli uomini che questi se ne preparrebbero quali per cuocersi l'un l'altro nelle vignate quali per abbruciarsi spontaneamente Prometeo era un abbandono alla sua fiducia nell'uomo e nella sua civilizzazione e infatti ribatte ma considera che quelli che fino ad ora abbiamo veduto sono barbari e dai barbari non si deve far giudizio della natura degli uomini ma bene dagli inciviliti e ho ferma opinione che tra loro vedremo e udremo cose e parole che ti parlano degne non solamente di lode ma di stupore Momo allora cogliendo la contraddizione nelle parole di Prometeo gli fa notare che in realtà se gli uomini sono il più perfetto genere dell'universo come faccia di bisogno che siano inciviliti perché non si abbrucino da se stessi e non mancino i figlioni propri quando che gli altri animali sono tutti barbari e ciò nonostante nessuno si abbrucia a bello studio intanto i protagonisti raggiungono il mondo civilizzato che all'epoca di Robardi era rappresentato dalla moderna Inilterra dove vi viene raccontato di un suicidio omicidio avvenuto per arma da fuoco da parte di un gentiluomo londinese che ha ucciso sé e i propri figli per noia la fiducia di Prometeo nell'uomo svanisce e così paga la sua scommessa a Momo il tema che si può evincere da questa operetta oltre a quello sulla perfezione dell'uomo è basato proprio sull'uso che l'uomo fa delle scoperte e delle invenzioni durante il viaggio assistiamo a una progressione sociale da Gannina passiamo alla vedova e poi a Gentiluomo ma assistiamo anche ad una progressione tecnologica dell'utilizzo del fuoco dalla pignatta alla pila alla pistola è il simbolo della tecnologia moderna essenzialmente Prometeo comprende i primi due episodi poiché sono legati a delle motivazioni il cibo e il brutto rimane del tutto sconcertato davanti al suicidio omicidio del gentiluomo londinese che succede appunto per la noia la noia e il livellamento di tutti quanti gli individui fino a formare una massa questi sono infatti gli effetti della civilizzazione grazie